a dillo rovico no scrivilo allora scrivi il giorno e chi giochiamo così almeno che tu ce l'hai messo chi gioca però siccome si incontrava lui non c'è stato capire più niente oggi e sono a vedere su internet quello che ho fatto è quello che ho fatto ma dopo non ha una chef tu manco che vuoi scusami ma ormai sempre normale tu manco che vuoi qualcosa no ma per adesso nulla tanto va no 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 ecco no 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 Grazie. 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 Grazie.